Lui colpito alla testa con il calcio di una scacciacani e derubato dell'orologio, lei sotto shock per l'aggressione al compagno, corsi in casa per medicarsi prima dell'intervento del 118. Una scena da incubo, quella vissuta ieri sera attorno alle 19.30 in via Montecengio. La coppia stava rientrando nel proprio appartamento sito nella palazzina adiacente al noto campo sportivo di Villa Ara. I due rapinatori vestiti di scuro pare li stessero aspettando davanti al cancello condominiale. La coppia di malviventi ha intimato al 62enne di consegnare subito il suo orologio di valore, poi sono passati alle vie di fatto. Prima hanno esploso due colpi in aria con una scacciacani, poi di fronte alla resistenza del malcapitato lo hanno colpito violentemente al capo con il calcio dell'arma. La vittima è caduta a terra consentendo ai rapinatori di sfilargli l'orologio dal polso e darsi alla fuga a piedi. La coppia è stata accompagnata in ospedale. All'uomo sono state prestate le prime cure ed è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Anche la compagna, sotto shock, è stata assistita dal personale sanitario. Le indagini sono affidate ai carabinieri che però possono far conto quasi solamente sulle testimonianze vista l'assenza di telecamere in zona, una viuzza residenziale ritenuta storicamente sicura dai residenti. Sì, è una zona molto tranquilla, è una zona sicura fino ad ora. Non siamo sulle strade principali per quanto molto vicine al centro, però una telecamera potrebbe essere un buon deterrente sicuramente.